Allora, ve l'abbiamo detto, era una puntata, una diretta, non una puntata perché una diretta unica, molto piena, quella di oggi qui da Saluzzo, siamo al quartiere di Saluzzo, ospiti come spesso accade della Fondazione Bertoni, ma oggi anche più in particolare del Salone del Libro, che è impegnato nell'organizzazione di questa festa del libro antico e medievale. Sì, esattamente l'ordine. Abbiamo raggiunto un'altra ospite, non dagli stand, dai numerosi stand che si possono visitare qui, tra l'altro mi invitiamo a dare un'occhiata tra oggi e domani, ma invece tra le persone che intervengono, che tengono magari delle lezioni, delle presentazioni. E quindi cominciamo un attimo a ritornare a tempi di scuole superiori e università, quindi avere a che fare con professore e professoresse. E cominciamo con Laura Aramello, benvenuta. Grazie, grazie mille. Perfetto, allora, lei appunto è una professoressa di filologia e linguistica all'Università di Torino e si occupa di queste tematiche, quindi è perfetto per questa festa dedicata al Medioevo. La sua lezione si è tenuta questa mattina e si tratta del libro Le meraviglie del mondo nel viaggio ad inizio 400 di Quattro Cavalieri. Di cosa ha parlato in questa lezione e di cosa parla il libro che tra l'altro vi ricordo che è stato pubblicato proprio quest'anno nel 2023 da Edizioni dell'Orso? Parla di questo viaggio che ci viene raccontato da questi quattro cavalieri, sono dei nobili, degli aristocratici, che si incontrano un giorno a Venezia e scoprono di avere questa comune passione di voler andare a cercare tutte le meraviglie del mondo. Per cui decidono di mettere insieme un po' di soldini per far fronte alle spese di viaggio, si imbarcano su una nave, partono da Venezia, arrivano in Terra Santa, ma la Terra Santa è la porta dell'Oriente. E quindi incominciano a viaggiare in Oriente scoprendo tutte quelle che erano le meraviglie che il Medioevo si immaginava fossero in Oriente e ci raccontano tutta la loro esperienza di questo lungo viaggio che poi, arrivati in Persia, torneranno di nuovo verso Occidente, ritorneranno in Europa, ma non si fermano lì perché poi fanno anche un giro in Europa, dalla Bohemia all'Inghilterra, dalla Spagna al Portogallo, raccontandoci tutta una serie di meraviglie presenti in Europa, quindi in un territorio nel vecchio continente che penseremmo un po' al di fuori di tutto questo serbatoio di meraviglioso che sappiamo essere invece l'Asia all'Oriente. E raccontano tutta questa loro esperienza all'interno di questa narrazione che ho ripreso e ho pubblicato in questo libro. Quindi c'è un grosso elemento di finzione, nel senso che non è un racconto di un viaggio effettivamente avvenuto, però è una finzione che non arriva dalla, non so come parla in termini migliori, ma non si è inventata lei dal nulla, ma prende in prestito proprio le suggestioni che circolavano all'epoca, le leggende, i miti, che quindi in qualche modo ritorniamo alla storia vera e propria perché sono quei racconti che circolavano proprio in quel periodo. Certo, diciamo che appunto le meraviglie sono una delle componenti fondamentali in questi resoconti di viaggio, anzi la meraviglia è il sigillo di autenticità del viaggio, nel senso che il lettore si aspetta di trovare determinati racconti perché sa comunque da altre storie che in Oriente ci sono determinate cose, determinati animali, personaggi, eccetera. Quindi non inserirle nel proprio racconto sembra quasi di scrivere una cosa falsa, no? La meraviglia diventa garanzia di autenticità di un viaggio effettivamente compiuto, anche se poi quel viaggio in effetti non è stato compiuto ed è stato scritto a tavolino. Quindi insomma per raccontare la storia non basta raccontare i fatti accaduti, per fare il passo in più bisogna anche provare a raccontare quello che c'era dentro la testa delle persone che li compievano. Esattamente, perché comunque anche chi decideva di partire partiva con tutto un bagaglio culturale che aveva accumulato, che era a volte una sedimentazione di leggende, di credenze che arrivavano dall'antichità e che erano arrivate fino al Medioevo e che il Medioevo aveva ulteriormente incrementato. Quindi era proprio quasi andare a verificare se quelle cose che si sapeva dovevano esistere effettivamente c'erano oppure no. Un po' anche con la scoperta dell'America, l'Asia effettivamente esisteva, ma il fatto che fosse lì era una credenza. Certo, certo. In effetti Cristoforo Colombo parte perché vuole trovare una via da occidente per arrivare alle Indie e quello era il suo scopo. Poi in mezzo si è trovato qualche cosa altro. Io sono molto curiosa, quali sono queste meraviglie? Perché io leggendo così ho letto di Amazoni, Unicorni, Cinocefali. Di cosa parliamo? Di tutto e di più, nel senso che c'è il meraviglioso animale e quindi ci sono gli unicorni, ci sono degli strani animali che il narratore chiama timboli, che sarebbero metà bue, metà leone. Ci sono i cavalli multicolori, quindi esseri straordinari ma anche animali effettivamente esistenti che uno si aspetta di trovare in Oriente, tipo l'elefante, il coccodrillo, di cui però vengono raccontate delle storie riguardo appunto al loro comportamento, alle loro abitudini, che sono quelle che si trovavano raccontate nei bestiari. Certo, molto interessanti tra l'altro. Cosa che si pensava che gli elefanti non avessero articolazioni nelle zampe e quindi non potessero sdraiarsi, per cui per dormire si appoggiavano ad un albero e dormivano in piedi. E tutte queste cose che riguardano animali veri, esistenti, vengono raccontate da questi quattro cavalieri che dicono effettivamente di aver visto gli elefanti che dormivano appoggiati all'albero o i coccodrilli che sembravano draghi senza ali, descrizioni di questo tipo. Proprio un viaggio all'interno del meraviglioso... E poi c'è il meraviglioso dei popoli, quindi i cinocefali, quindi i monocoli, i pigmei. C'è il meraviglioso che potremmo definire politico, quindi l'incontro con il Gran Khan, con Tamerlano, con l'imperatore del Catai. Quindi il meraviglioso si declina in vari modi e in varie dimensioni che tutte insieme fanno sì che l'Asia venisse considerata proprio come la sintesi di tutte le meraviglie del mondo. Non può che venire in mente in tutto questo Marco Polo, però forse proprio da lì possiamo partire per un'altra riflessione, cioè che forse ai nostri occhi Marco Polo suona un po' come un'eccezione, cioè in generale nel Medioevo, in tempi antichi, si stava lì dove si nasceva e poi c'era qualcuno, uno ogni milione, uno ogni dieci milioni che invece prendeva e partiva. E invece anche un po' mi sembra di capire che sia un po' l'obiettivo di questo libro, ma in generale qualcosa su cui si può riflettere, che in realtà non era poi una società così chiusa e cementata come pensiamo. Infatti non è vero che nel Medioevo non si viaggiava, si viaggiava, si viaggiava molto e questo ce lo dimostrano tracce che noi troviamo in luoghi apparentemente lontani dal luogo di origine di certi miti, di certe leggende. Pensiamo, che so, al re Artù che era raffigurato nel mosaico del pavimento del Duomo di Otranto. Com'è arrivata lì la leggenda di Artù che nasce nel nord della Francia, se non addirittura in Inghilterra? È arrivata sulle gambe delle persone, dei viaggiatori che viaggiavano, che trasmettevano cultura, racconti e che diffondevano queste notizie, queste leggende. E quindi si viaggiava molto e la cultura viaggiava sulle gambe dei viaggiatori. Quello che certamente possiamo notare che contraddistingue un po' i viaggiatori di questo racconto è il fatto che loro viaggiano per divertimento. E questa è una dimensione molto moderna e che nel Medioevo si trova molto poco. Di solito si viaggia per uno scopo. Per affari. Per affari, per esempio Marco Polo che si muove per i suoi commerci. Si viaggia per pellegrinaggio perché si vuole magari andare in una delle grandi mete di pellegrinaggio. Si viaggia per spirito missionario. Ma viaggiare per divertimento, secondo quello che è il moderno concetto di vacanza, questo è un tratto molto moderno e raro, questo sì, nel Medioevo. Sì, chiaro che magari nel tentativo di sfatare i miti sul Medioevo non dobbiamo fare il passo più lungo nella gamba e quindi accomunare qualsiasi cosa della vita moderna, quello che si faceva allora. Chiaramente qualcosa è cambiato nel frattempo, anche se non tutto. No, assolutamente. Sicuramente però dobbiamo anche imparare a non giudicare il Medioevo con i nostri occhi. Cioè provare ad immaginare come potevano vedere gli uomini e le donne del Medioevo determinati popoli, determinati territori, metterci un po' nei loro panni e nei loro occhi. Perché sicuramente le cose che stupiscono noi non sono quelle che stupivano loro. Il nostro meraviglioso non è il loro meraviglioso. Quindi cercare di fare noi un passo per cercare di avvicinare, di entrare in quella cultura. Certo, e proprio parlando appunto di viaggio, che tra l'altro è anche il tema principale di questa edizione della festa del libro medievale antico, questi quattro cavalieri che sono un po' i protagonisti di questo libro vengono definiti Globetrotters Antelitteram. È appunto un'immagine che ci ha fatto sorridere perché appunto i Globetrotters sono un'immagine che noi vediamo molto moderna, no? Invece anche loro in qualche modo potevano essere definiti Globetrotters. Sì, perché appunto loro vogliono vedere, lo dichiarano proprio, vogliamo vedere tutto il mondo o la maggior parte di esso. e vogliono andarlo a vedere per pura curiosità. Non hanno uno scopo preciso che li spinge a viaggiare. E la curiosità è il nutrire la loro dimensione di intellettuale. Mi fa venire un po' in mente anche Ulisse, non so se c'è qualche connessione. Il fatto di voler viaggiare per vedere, per scoprire, per portare a casa appunto, per aver scoperto il più possibile. Sì, Ulisse a me viene anche in mente Alessandro il Grande, che è conosciuto nel mito di Alessandro il Grande, che peraltro era un mito molto radicato nel Medioevo, era uno dei grandi miti, dei grandi modelli a cui i cavalieri medievali si aspiravano, diciamo. E Alessandro, oltre alle grandi conquiste, c'era in lui questa sete di sapere, di conoscere, di spingersi sempre oltre, di andare sempre al di là. Ecco, questo è un po', secondo me, lo spirito con cui questi quattro viaggiatori affrontano la loro avventura. A me viene quasi un sentimento paradossale, perché parliamo sempre del Medioevo come questo periodo scuro, poi sappiamo che non è vero, prima abbiamo citato Barbero, che forse per noi che ci siamo dimenticati un po' la storia dopo gli studi, è una delle fonti più diffuse per riappassionarsi anche solo. Lui, insomma, fa molto per cercare di sfatare queste immagini. Però io andrei quasi oltre, nel senso che questo senso di meraviglioso per il resto del mondo, per noi per forza è un po' ridimensionato, nel senso che loro davvero viaggiavano verso l'Asia, mi immagino, davvero credendo di poter incontrare la qualunque, mentre noi invece, certo, le sorprese possono essere dietro l'angolo, ma possiamo farci stupire e meravigliare molto meno. Sì, noi forse abbiamo un po' perso questa capacità di meravigliarci, di stupirci, e abbiamo, secondo me, perso anche altro, e cioè la possibilità di viaggiare davvero liberamente in tutto il mondo. Purtroppo, e i fatti di questi giorni ce lo dimostrano, ci si mette in viaggio, ma non con quello spirito, in qualche modo, sereno, tranquillo, libero, che magari in quel periodo era più presente. Forse noi abbiamo un altro immaginario, un altro meraviglioso, ma secondo me ci manca molto questa idea di poter viaggiare, andare dove vogliamo, senza farci troppi problemi, come invece, insomma, la situazione mondiale ci costringe un po' a ragionare, anche su noi stessi, su quello che possiamo in questo momento fare. In quel momento, invece, si affrontava tutto, forse magari con una maggiore dose di incoscienza, non lo so, però si affrontava tutto in maniera molto più serena, proprio andando incontro all'ignoto con il desiderio di essere stupiti da quello che si incontrava. Certo, e sempre un po' ricollegandomi a questo discorso, internet, da un lato ci dà la possibilità di essere preparati su tutto, sappiamo già dove andremo, conosciamo già i ristoranti dove potremo andare, sappiamo già cosa visitare, però allo stesso momento, diciamo che sapere già a cosa andremo incontro ci toglie forse un po' la magia dell'inaspettato, del nuovo. Certo, questo è un po' il nostro limite, nel senso che pianifichiamo tutto. I viaggi del Medioevo erano viaggi in cui c'era un punto di partenza e un punto di arrivo, ma tutto quello che si faceva nelle tappe intermedie era tutto lasciato al caso, ai tempi, perché i tempi potevano variare per diverse variabili, che potevano essere il clima, poteva essere situazioni particolari che ti impedivano di arrivare in un determinato posto, oppure arrivare in un posto in cui ci si trovava bene, in cui si rimaneva per più tempo di quello che si sarebbe immaginato. Adesso abbiamo già pensato a tutto prima. Adesso sappiamo già che cosa facciamo il giorno dopo. Esatto, quando programmiamo un viaggio sappiamo già quanti giorni rimarremo, perché magari abbiamo solo quelle vacanze, quindi non è che ci possiamo fermare più di tanto in un luogo, anche se ci piace. E questo è significativo anche il modo in cui viene scandito il tempo in questo racconto, perché ci sono pochissime date. Il tempo e il viaggio viene scandito dalle giornate di cammino, per cui non vengono indicate delle distanze, ma vengono indicati i giorni che servono per arrivare in quel determinato punto. E questo è appunto una dimensione temporale che per noi sarebbe inconcepibile. Noi ho proprio il modo di riferirci al tempo. Noi lo facciamo con i minuti al massimo. Noi lo facciamo con i minuti. 5 minuti di camminata, però non diremmo mai a che distanza sei, un giorno di cammino sarebbe assurdo. Allora, sono davvero tantissimi i temi, probabilmente potremmo tenerla qui a chiacchierare per un paio d'ore. La ringraziamo per il momento, quindi. Esatto, sì. Grazie a voi. Allora, le permettiamo di riprendere a viaggiare magari. Grazie mille davvero. Ricordiamo solo un attimo il titolo del libro, per chi lo volesse. Certo, abbiamo appunto parlato con la professoressa Laura Ramello, che ha scritto il libro proprio nel 2023, è stato pubblicato dalle edizioni dell'Orso quest'anno. Le meraviglie del mondo nel viaggio ad inizio 400 di 4 cavalieri. Grazie mille. Grazie a voi.